Le accuse mosse contro i vertici attuali e passati dell'AMAP riguardano la gestione dei depuratori delle acque a Palermo e provincia e lo sversamento in mare dei fanghi. L'inchiesta era stata avviata quasi tre anni fa. I carabinieri avevano notificato un'ordinanza di commissariamento all'ex municipalizzata. L'allora assessore Prestigiacomo lasciò la delega ai servizi idrici. Il nucleo di polizia ambientale fece delle verifiche sulla gestione tecnico-operativa dei depuratori delle acque reflue sia ad Acqua dei Corsari che a Balestrate, Carini e Trappeto. Secondo l'accusa la gestione irregolare degli impianti avrebbe provocato l'inquinamento dell'area protetta del Golfo di Castellammare. Adesso arriva il rinvio a giudizio per l'attuale amministratore unico di AMAP e per gli ex vertici della partecipata. Il gruppo ha fissato per aprile la prima udienza del processo per il quale i comuni di Palermo, Capaci, Trappeto, Partinico e Balestrate nonché le associazioni ad Usbef, Legambiente Sicilie e Codacons si sono costituiti parte civile. Accolte le richieste avanzate dai sostituti procuratori nei confronti di Maria Prestigiacomo, ex presidente AMAP ed ex assessore della Giunta Orlando e dell'attuale amministratore unico della municipalizzata Alessandro Di Martino. Con loro vanno a processo anche i dirigenti Angelo Siragusa, Adriana Melazzo e Dorotea Vitale che a vario titolo si sono occupati della gestione degli impianti idrici.